La nostra insegna è di nuovo accesa. I vostri menu preferiti sono tornati. L'ordine è ancora più sicuro, semplice e direttamente dall'auto. E noi siamo pronti ad accogliervi ancora. Perché Benvenuti al MacDrive aveva un suono piacevole. Ma Bentornati al MacDrive avrà un suono bellissimo. Ripartiamo da qui. Dal gusto dei momenti che amate da sempre. I nostri grandi classici vi aspettano. Comodo. Sicuro. MacDrive. Grazie a tutti.